Fatto, vediamo un poco, troppo buono, stiamo facendo la carne, si con le salsicce, lo sfondo è molto scuro quindi ecco adesso si vede meglio, si vede pure una capuzza di cana a rete, adesso andiamo a inquadrare, queste sono le tre zelle della vispa teresa, questa farfallina della vispa teresa, questo è il posto mio, allora andiamo a vedere che c'è nel piatto della signora qua, salatella, carne, carnuccia, salsiccella, che stai facendo tu là? guardate guardate, un telefono super tecnologico che ha faiato, non ha faiato, questa è l'insalatevole, e questa è la mia carnuccella, un po' di alzanguola, però è buono, da questa parte a fianco della signora qui dietro il corpo del reato, il barbecue con vista sull'orto, vedete l'ampliamento dell'orto che è stato fatto con la sedia coccata a terra sulla destra perché è sbucata anche una pianta di pomodori, quindi abbiamo dovuto fare un po' più spazio tra salvia, prezzemolo e cose, qui a terra invece c'è un bestio contento che oggi siamo tornati a casa un poco prima, sei un bestio contento tu, stai guardando rosa, e rosa non ti dà da mangiare? no, che cattiva rosa, eccola qua, e potete anche intravedere nello specchio lì sulla parete in fondo si vede il grattacielo di barselloneta, quindi io da dove sto seduto a mangiare, nonostante sembra che do le spalle al mare, ma mangiando posso vedere il mare, va bene, chiudiamo qui, ah per mia madre faccio vedere anche un'altra modifica, la sono sempre le roselline, il rampicante, mi ha fatto un'altra modifica, questa che sta sulla sedia del tappeto che abbiamo arrotolato da quando il ferente ha avuto le pulce, e ho distanziato un poco, vedi quel vaso, l'ho messo un poco più fuori col vasetto sottopoggiato, perché questa pianta sembra che sta prendendo bene, si sta prendendo, si sta facendo colpa, poi ce n'è pure un'altra, faccio un'altra carrellata, c'è un'altra volta la vispa Teresa qua di passaggio, e c'è anche un'altra pianta là dietro la bicicletta, la bicicletta è messa per non far distruggere la pianta dall'animale turco qua, che sembra che si sta ripigliando pure, è una bella pianta, va bene, se non lo abbassiamo adesso in guadratura fino ad arrivare, ecco qua, qualcosa storto, va bene, e qua ci possiamo salutare, bye bye